La sua ragione La sua vita ho sognato di avere il genere d'amore che sua figlia sta tentando di darle. Morirei per quello che ha lei. Perché non riesce ad amarla? È così facile da amare. Ma che cosa sai tu di mia figlia? Non sai niente! Hai capito? Niente! So che è una persona buona, è forte e merita tutto l'amore che questo mondo ha da dare. Ma non lo vede quanto è meravigliosa, quanto è speciale! Lo vedi questo? Questa terra, questo vigneto, questo mi impegna 365 giorni all'anno! Per chi crede che lo faccia? Per loro! Per tutti loro! Io amo la mia famiglia! Dovrebbe farglielo sapere.